Buonasera a tutti e a tutti, ringraziavi di seguire noi per vostro notiziale. Sotto rimeno oggi e scopriamo insieme i didoli di su notiziale. Pene i brigi o peidre sostenitori agli accenni dell'affare Kenzo, a decisione e cascata stamane, gondane so più basse che quelle o mandate da bregura o idere. E poi come ogni 8 settembre si celebrava oggi e vestività di natività di avergine Maria, andremo in Iolo, in Casamacoli, a Berra, Kine, o verbo reguistano. Di un affare che ha fatto assai assai rio, o tribunale d'Aiaccio ha reso stamane a sua decisione del gartulare Kenzo. O abo di suzidello d'Otania era stato scuzzolato durante il scontro ASEA-Marsella di junio scorso idreggio anni sostenitori Aiacini so stadi gondana di ebregizione Sara Devranchi, con Marie-Françoise Estevani e Jennifer Cappagni. Due gimezi i brigi o attempati e amende da 500 a 1000 euri e qua gondana di idre sostenitori di a squadra Aiacino. Marc-Anton Cabezzeroni, Pablo Ecemenzi e Antoni Giacomini serano ancora interdetti il stadio durante tre anni. La decisione è cascata a Stamani e tre giovani sono stati condannati per l'agressione della famiglia di Kenzo al stadio François Cotti. Un giudicamento che ha pazzato a la famiglia di Eui, timi, secondo la partita di Eui, la rappresentata da suo avvocato. C'è una decisione che è giusta e soprattutto per la famiglia. Ce che è importante è la reconnaissance delle violenze. L'ensemble dei violenze sono stati condannati oggi. L'ensemble dei violenze sono stati di tutte le victime, che sono i parenti e i bambini, è il punto importante che la famiglia vuole rilever oggi. Il tre di Iunio Scorso è un cidio di Ottani, Kenzo e Uzoabu e rannostati agressati da tre sostenitori a Aiacino non si ha aberti da CAOM. Qu'un dei giorni va, il procuratore aveva domandato dei giorni mesi e ibrido fra i quali due e di mesi attempi di più Marc-Antone Cabezerone che sarebbe quello che sarebbe portato i gorpi a Uabu. Per loro, la decisione è dunque meno vorti che penne umandate. Je penso che il faut remettere finalmente queste penne in un contexte e per ce qu'elles sono, c'è dire che queste penne sono a la hauteur di ciò che è stato reproché a i nostri clienti respectivi, c'è dire tutto simplement una extorsione di t-shirts, una extorsione di maio di l'OM. Sa fare aviavato assai ribombo se non abresa i baroli del Presidente della Repubblica. Si può essere begonpire se i condannati e abregura un fageno mica a pello. E sempre a Balazzo Justizia d'Aiacio di un procuratore della Repubblica e il Presidente del Tribunale hanno installato quattro noi magistrati e noi personali di Justizia rinforzano i un dettorni in mezzo a bene e tutto vedi in un quadro di noi mesi consagrati da un Ministro di Justizia ai Tribunali. E poi nell'attualità parete informazioni alla Corte un uomo è morto in un orgo su obo medio orno, l'uomo di 70 anni, si è annigato a Marana non è agomona, dunque di un orgo. La informazione è parete che le macchine di un'impresa di lastimenti sono state bruciate e sono notate per dire ora che non è un'attualità di un'attualità di un'attualità che si sapeva per avere poche affare di circostanze. Un'inchiesta di distruzione per via di mesi pericolosi è stata aberta da abregura di un'attualità di più informazioni in questo articolo vato da Axel Bouchon. Infine, due vogue sono piccate in un ozzo su obo medio orno prima in Favallil 5 hectare bruciate e polastro in Sant'Andrea di Ose 8 hectare hanno bruciate e due vogue si operano a maestrade che bule sud conto che 21 gamioni dispendie vogue e due ganader e un elicottero ecco. In dell'attualità di noi un'amossi riserva davanti a Maria di Borti e tu pedi inno ad usura di amadernità di agriaca dell'ospedale un comitato di sostegno si messo in piazza mobilizzazione salarga dall'elite ai personali passando dai dottori di ubriado e l'abidenti dopo una riunione parete azione su strada e programma di inesima nabene stiamo assente a Gian Cristofo Angelini una zerga di nocone anche a Cala in Baleone per i personali dell'ADMR di Ubomonte oggi verso il giorno di greco abbiamo l'inter-sindicale CGT stessi e ricerà una riunione che aveva ragione l'ADMR d'Ajac della mer di conviviali la foire le persone si ritrovano io penso che nella nostra società abbiamo bisogno di momenti heurei sereini dove le persone si ritrovano per un momento di fette manifesta la gioia di croire la gioia di si ritrovare più di 150 confrattere venuti di tutta Gorsica hanno partecipato a Granitola questa processione che si sara e che si apre la rappresentazione di Avita che muore e che nasce la Granitola è qualcosa di particolare è la morisola di Ramo Barecci Ramo Barecci e vengono come a Romaga se ne torciamo il proprio giù e se non è mica storzata chi è ausenso? ma non è mai vicuda ci sarà una catastrofe ma non è mai passata la Vergine è con noi e che da voi sintesi in i tempi passatori aviere corrispondì al principio dell'impiagriera quando i pastori indiani comprenne un necessario paura di imu oggi e la scusa di passare assortita dove venevo? di Belgica près di Mons Bruxelles 50 km di Bruxelles che ti ha attirato per la Corse per la Corse la seconda che ci viene e siamo consigliati da il monsieur che è un amico per la montagna per la montagna il paese e la città che ci sono che ci sono che ci sono quindi non sono possibili di oggi ci sono sempre a tempo per gli uomini a vivere durante tre giorni allora religioso ma la vasina ci credo è più forte che a me sono sicuro che ha fatto qualcosa bene sa troppa far che ci sono passati di Dampi 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 Ecco fin edizio notiziale ringraziabile se stade con noi domani ridruire di Astila Rossi intanto la tua lida continua di non terre desu jale buonasera e chalade e la sempre l'antabia Stila Dampi